Iniziamo questa settimana invece con un ospite, perché mi sembrava giusto, ed ecco qui che infatti vi presentiamo Niccolò Centioni. Ci senti Niccolò? Buonasera, buonasera, io mi sento circa tre o quattro volte di rimbombo, ma comunque cerco di concentrarmi sulla prima voce più alta che sento, perché c'è il replay ogni volta, quindi figa sta cosa. Allora Niccolò, puoi salutare un po' tutti quelli che sono arrivati, insomma. Sì, certamente, allora aspetta un attimo che ho 2000 pagine sul telefono io qua, devo fare il multitasking qua, devo vedere troppo le cose. Allora, fatemi ricollegare qua, eccomi, adesso vedo, Luca sta in cremino stasera, oppure tu Niccolò. Allora, Luca oggi è quello con la videocamera più pulita, più ordinato, è il più bello. Quella più professionale. Ma in realtà c'è un fatto, è che ci ha rubato l'attrezzatura, lui sta a Livorno, solitamente vive con noi. Ah ecco, ve l'ha rubato a voi quindi. Esatto, bastardo. La sono riportata qui. Tra l'altro, il bello è che mi sa che tra non molto si scaricherà la batteria e quindi mi si vedrà dalla webcam e ci sarà uno stacco pazzesco. No, allora no. Alla Montemagno, esatto, sì, 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 con la libreria dietro. Sì, è proprio Montemagno. Alla Montemagno, sì. Allora, chi è Niccolò? Chi è Niccolò Centioni? E se non lo conoscete, lui è Niccolò Centioni. Ha anche detto Niccolò Centioni. Quindi Niccolò Centioni. Non uno, non due, non cinquanta, ma ben centioni di centioni. Tantissimi. Cioè, quando si dice milioni di milioni, lui è centioni di centioni. Bellissimo. Noi ci siamo conosciuti al Teatro degli Eroi in uno spettacolo. In occasione di uno spettacolo, nella preparazione di uno spettacolo. La preparazione di uno spettacolo. Che l'ha diviso in tre parti, se non sbaglio, nello spettacolo, no? Sì, sì, non me lo ricordo bene, anche perché facevo poco. Era Campanile, no? Sì, era di Campanile. C'era anche la scena dei russi, ti ricordi? Sì, sì, bellissimo. Ma quando era, quando era questo tempo remoto? Mamma mia. No, è un anno ormai. Più di un anno. No, sì, più di un anno sicuro, perché un anno fa eravamo già chiusi. Era nel... Era gennaio? O febbraio? Non mi ricordo. C'è faio. C'è feggiaio. C'è fraio. Vabbè, ci siamo incontrati lì. Ed è stato particolare questo incontro, mi hai detto, perché... Sì, è stato strano, perché è la prima volta che comunque Nicolò comunque è un attore che è conosciuto, molto riconosciuto, però io non avendo mai visto... Conosciuto o riconosciuto? Perché c'è una differenza. Conosciuto, perché poi parleremo anche del resto. Conosciuto. Io però ho un grosso problema che non ho mai visto né il Signore degli Anelli né i Cesaroni, che credo che... Mamma mia. Che poi sono uguali, cioè vanno insieme. Sì, credo. I Cesaroni e i Signori degli Anelli? Nooo. E alla fine mi avevi riconosciuto tu perché avevi visto una settimana prima uno spettacolo mio dove stavo con Antonello Fassari. Ecco, è vero, è vero. E tu mi hai detto, ma tu sei il ragazzo del... Mi scrivono vergogna intanto. Vergogna. Non so se è vergogna per non aver visto i Cesaroni o... O per il Signore degli Anelli. Sì, o per il Signore degli Anelli. Sicuramente perché mi hanno già attaccato più volte per questi motivi. O tutti e due. Sì, anche per i Cesaroni, cioè comunque è una pietra miliare, se si può dire, o centionari. Centionari. E' stato strano. Ho detto, ah, tu sei... Sì, sì, sì. Quando ci siamo visti. Poi ho capito dopo che è stata una mia grossa... Ma tu l'hai riconosciuto? L'ho riconosciuto dopo. L'ho riconosciuto dopo anche perché dopo mi hanno detto, ah, comunque c'è Niccolò che faceva Rudine e Cesaroni. Ho detto, ah, ecco. Comunque ti avevo riconosciuto più o meno sì. Come ha fatto Rudine e Cesaroni? Non lo sapevo. Bugia. Lui si scoppiava di Cesaroni. Mi scrivono, Fabio, ma che cavolo? Quanto si tengono, bello. Solo per non aver mai visto Il Signore degli Anelli dovresti uscire dalla live. Eh, mi sembra giusto. Vedi che si attaccano con queste cose. Sì, sì, sì. C'ha ragione. Sì, ma devi sapere, Niccolò, che Fabio è da sempre, insomma, da sempre. Questa è la seconda live, però. È sempre stato attaccato. Bullizzato. C'è anche un hashtag che è Fabio Out. Deve uscire. Fabio Out. Fabio Out e prima o poi dovrà uscire, se lo chiamano più volte. E niente, ma facciamo parlare un attimo un po' Niccolò nel caso. E certo, è qui per questo. Se ti vuoi presentare, presentati. Allora, io mi chiamo Niccolò Centioni. Sono nato il 13 maggio 1993 all'ospedale San Pietro di Roma. Bene. Era una giornata fredda. E come fa a essere? Cioè, sei uscito direttamente fuori. Sì, già. Via. Coscienza. Improvvisa. Sulla vita bisogna sempre improvvisare. La mia carriera, diciamo che inizia nel 1999 con chi ha incastrato Peter Pan. Non tutti sanno che io, oltre ai Cesaroni, ho fatto anche altre cose prima. Perché tutti pensano che questo ha fatto solo i Cesaroni e solo Rudy. Invece io ho iniziato tanto tempo a fare un bambino di sei anni. Mamma mia. Ho iniziato con Bonolis. Ho fatto tantissime piccole parti in tanti telefilm, fiction e varie cose. Grazie Calimat. Eh? No. Si sono iscritti al canale, intanto. L'abbiamo ringraziato. Ok. Fantastico. Poi ho fatto delle pubblicità e poi nel fantastico 2006 sono entrato a far parte di questo meraviglioso cast. E l'ho conquistato in sette lunghi provini. Nica uno solo. Finale, finalissima, super finalissima. Cioè, che era Miss Italia. Una marea di cose, insomma. Sì, era Miss Italia. Esatto, Miss Italia. Cioè. E poi la mia vita cambiò. La mia identità cambiò. Non fu più Niccolò Centioni, ma inizia ad essere il Rudy dei Cesaroni. Eh, sì. Che quello è il fatto. E che se... Poi, soprattutto a te che sei da piccolo. Sei entrato da piccolo. E quello è il problema. Che la tua faccia poi viene riconosciuta non come l'attore, Niccolò, ma come il personaggio Rudy. No, però io, tra virgolette, ho avuto questo, diciamo, incastro. Perché se tu vai a vedere, analizzi la situazione di un Matteo Branciamori, che comunque è stato un mio compagno di vita, praticamente, che faceva Marco. Se lui va in giro per strada, non lo chiamano Marco. Lo chiamano Matteo. Sanno che si chiama Matteo. Federico Russo, che era il ragazzo che faceva Mimmo, la stessa cosa. Io sono l'unica persona che è rimasta personaggio. Ok? Questo perché forse il mio personaggio, appunto, è rimasto più impresso, in quanto ero il ribelle che faceva di scherzi. E molti bambini, molti ragazzi, che allora erano bambini, si sono ritrovati nel mio personaggio. Sì, forse era più particolare. Però te confesso che so, l'unico che è rimasto a Rudy dei Cesaroni. Esatto, sì. Purtroppo, per fortuna, perché da una parte fa piacere, perché ovviamente ti fa capire che la gente si ricorda... Certo. ...si ricorda del personaggio non di te. Certo. Ecco, però si ricorda. È importante ricordarsi. No, certo, certo. Poi ovviamente, vabbè, ho 27 anni, ancora ho tempo, mi auguro di riuscire a fare anche altri ruoli e altri progetti, insomma. È difficile perché ci vuole tempo, devo cambiare. Io forse mi devo far crescere a barba, non lo so, devo andare in palestra, devo dire un mega fusto. Devo cambiare completamente proprio immagini. Sì, devi diventare cattivo di quelli bastardi. Sì, guarda Fabio, questa faccia devi avere. Ecco, è il mio problema che... Sono brutto. ...dalla gente questo, però, perché io, per esempio, ho visto Daniel Radcliffe, che è colui che ha fatto Harry Potter, l'ho visto in altri film, e sono riuscito a capire la differenza, cioè che lui era un altro... Non lo identificavo come Harry Potter anche in quell'altro progetto, ok? Quindi secondo me questa è anche una cosa personale, cioè che da persona a persona. Sì, diciamo che lui è anche cambiato comunque nel tempo, nel senso che... Eh beh, pure io sono... Cavolo, sei cambiato? No, no, sei cambiato, sei cambiato tanto adesso. Sei cambiato tanto adesso. Era un'altra persona. Però anche lui, ad esempio, da Harry Potter a fare altro, penso sia passato diverso tempo, perché comunque... Io mi ricordo che... Non so, non aveva fatto subito. No, 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 non troppo tempo, perché lui ha fatto La Signora è Nero, una cosa del genere. Sì, subito dopo. Che era passato due anni dopo, quindi non sto tempo omicidiale. Ah, non così tanto. Ah, no, pensavo di più, pensavo di più. No, poi ha fatto nel 2019 un altro film, e lì si vede che è proprio diverso. Però comunque tu lo vedi, è sempre quella la faccia, non è che cambia tanto. Sì, sì, no, va bene, è chiaro, non è che cambia... Ma come appunto hanno scritto, è la stessa cosa successa a Elia Wood, visto che abbiamo parlato del Signore degli Anelli. Elia Wood, sì, esatto. Elia Wood, però ha fatto anche altre cose. Io l'ho visto, per esempio... Dov'è che l'ho visto in un film con Jim Carrey? Se mi lasci ti cancello, c'era anche lui lì, con un altro taglio di capelli. Già, già, già. E io non lo associavo al Signore degli Anelli, che giuro. Cioè, lo vedevo proprio che era un altro personaggio. Infatti io manco ricordo. Riuscivo a meresimarmi nell'altro personaggio. Ma guarda, secondo me... Dipende anche dalle persone questa cosa. Secondo me... Anche perché se no chi fa veramente un personaggio poi può fare più altro per tutti. Esatto, noi abbiamo conosciuto di persona anche Eleonora Gadedu. Sì, come è? Non è Gadedu. Pensa che io non l'ho mai conosciuta. Stavo nello studio del fronter nostro. Eravamo al 21, lei stava al 20. No, noi abbiamo fatto l'accademia. Lei era due anni sopra di noi. E anche lei diceva, cazzo, ma io sono rimasta bloccata ad annuncia. Perché... Perché lei ha anche iniziato da più piccola di te. Cioè, era più piccola. Tu avevi sei anni, se non mi sbaglio. Non so, lei. Lei era più piccola. No, 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 no. Io c'avevo sei anni quando ho iniziato proprio... Quando ho iniziato tutto. Ah, quindi eri... C'avevi di... Ah. C'avevo 13 anni. 13 anni, ah, allora sì. Oh, ma li sei visti, Cesaroni? Ma come fai a... Ti ho detto no! Non me l'ho visto. Non li hai visti, ma li hai visti davvero. E la cosa bella è che i miei primi due spettacoli dopo l'Accademia... I miei primi due spettacoli dopo l'Accademia, quindi quelli che si chiamano spettacoli, i primi spettacoli da professionisti, erano il primo con Antonello e il secondo con te, due attori dei Cesaroni. E io ero rimasto con quell'ignoranza dentro, mi dispiace, ma lo faccio veramente schifo. Fai niente, dai, c'è stanno le repliche, non ti preoccupare, fanno tutti gli anni. Eh, infatti, su, aspetta, ogni tanto li incrocio e me li vedo. Su Netflix, su... no, aspetta, su Amazon li hanno tolti, però stanno su Netflix e su Infinity, li puoi trovare. Eh, ma ogni tanto li ho visti pure su Mediaset... Extra, su Canale 55, le fanno tutte le stati. Ah, ecco, vedi, io li ho incrociati e mi sono fermato e ho detto, ecco, ora vedo gli amici miei, va, vedo che fanno, vedi. È normale che ci sta... che esista l'imaglie, Fabio. Eh, l'imaglio, ma ogni anno c'è da... Ogni anno c'è da i diritti di immagine per le repliche, meno male, io vado avanti io a quello ormai, guarda. Allora, almeno a quello. Eh, hai detto niente, oh, so, dieci anni di diritti. È male. Sono, sì. Sì, sì. Allora, comunque... E poi ogni anno cambia il compenso. Ah, sì? Non c'è niente come tantissimo, quindi è sempre una sorpresa, è bellissimo. Dice, oh, oggi dieci mila euro, quanto mi danno, quanto mi danno? Sì, dieci, venti, io voglio. Mamma, eh. Ma cambia sempre, cioè che va sempre meno il compenso? Cambia in base... Beh, sì, sì, va sempre un po' meno, però dipende quante puntate mandano, su che piattaforma la mandano, quante serie mandano, capito, insomma. Ok. Dipende. Comunque fanno un po' di domande, scrivono, vabbè, innanzitutto scrivono complimenti al professor Luca Carrieri per l'outfit e la qualità. Eh, è vero, è vero. E poi invece ti chiedono anche, Alidee, a Lady Gema, chiede una curiosità, da tredicenne, come è cambiata la tua vita? Eh, come dicevo prima, è cambiata proprio tantissimo, perché il giorno prima, cioè l'ultimo giorno delle riprese, ero Niccolò Scentioni e poi il giorno dopo sono diventato un'altra persona, praticamente, no? Certo. E anche a scuola, come... io mi sono... ho sempre pensato, ma chissà, chi va in tv da piccolo, insomma, al liceo, come... com'è la vita? Ma chi? Ma chi c'è nato a scuola? Ora capisco tutto! Ho capito! Ma che è la scuola? Questo non hai parlato in scuola, ma io non... No, no, ci ho avuto... allora, funzionava così, noi avevamo fino alla terza media le professoresse private sul set che ci seguivano durante un chac e l'altro. No! Fantastico! E' perché non ci avevamo poco tempo da una scuola, noi ci avevamo veramente da lunedì a venerdì tutti i giorni, tutto l'anno, perché erano nove mesi a serie, quindi, cioè, voglio dire... No! E quindi fino alla terza media, vabbè, se poteva fare... poi... con il liceo la situazione cambiava, ovviamente, perché dovevi comunque fare queste presenze, no? Quindi, nonostante noi stessimo segnati tutti quanti a scuole private, che toccava pure pagare, alla fine ci aiutavano, ovviamente. Quindi l'esame lo passavamo, però alla fine io ho lasciato verde perché non la facevo più. Tipo i calciatori, ma... In questo mi riconosco come il personaggio che mi hanno assegnato, diciamo. Alla fine sei diventato veramente rudi. Alla fine, eh... No! Un po' sì, dai. Comunque allora era pesantissima, anche nel periodo delle medie, cioè, tu tra una ripresa, tra un chac e l'altro, insomma, c'era un insegnante che faceva... Io andavo a studiare, di fatto ogni volta, quando uscivo dallo studio, correvo via e io, la professoressa, me rincorreva, capito? C'erano le scene, le comiche proprio, cioè, me nascondevo proprio, sì, sì. Oia! Eh, lo so, è così. Oppure andavo, sai, c'era stava la macchina del caffè, no? Ogni tanto uno andava là, io, studiavo un caffè, ci rimanevo le ore, poi me nascondevo per i camerini, dell'artri. Bellissimo. Ma che me beccava, oia te. Comunque dicono, che mia cugina era innamorata di te, e ora, vabbè, ora lo sai. Lo dovevi dire. Eh sì, no, sta scritto. E quindi, insomma, anche per relazione, il fatto che era la cugina, anche Fabio è innamorato di te. Sì, anche io sono innamorato di te, ormai. E cioè, è tutto collegato. Mi dispiace, mi dispiace di questo. Ti dispiace che io sono innamorato di te o... O della cugina, non ho capito. No, di tutti quelli che sono innamorato di te, mi dispiace. Che hai discusa l'umanità. Eh sì. Chiedono anche perché hanno smesso di farlo, ci sarà mai un revival. Io credo che abbiano smesso di farlo perché ogni cosa deve finire alla fine. Ahimè no. No? Ahimè no, perché no, ma la gente non vuole accettare questa cosa perché siccome la serie è finita, è finita che non è finita. Ah, è un finale aperto. Hanno fatto un finale aperto che può comunque far pensare di tutto. Allora la gente pensa sicuramente prima o poi faranno un'altra serie che si chiuderà sta storia. E invece no, non la fanno. Perché Silvio Berlusconi ha detto, sai che c'è, siccome Cesaroni fino alla quarta serie sono nati da paura, i primi in Italia proprio, c'è il 26% dei cern, è una bomba. Poi qualcuno ha deciso di non nassene e ovviamente se togli i personaggi principali dalla serie è chiaro che la gente affezionata si guarda un po' di meno. E togli uno, e togli due, e togli tre, e togli Max Tortora, ma togli Max Tortora e non ne guardo più i Cesaroni. Lo capisco anch'io, capito? Da spettatori lo capisco pure io. Capito. E allora Silvio Berlusconi ha detto, ciao, io non ce l'ho mai più niente, Mediaset la domanda avanti, mica posso perdere i soldi, no? Giustamente. Sì, che poi mi raccontava Antonello che, come dicevamo prima, era veramente una cosa dietro l'altra, cioè non avevi nemmeno il tempo di imparare una scena che subito dovevi girare l'altra, cioè doveva essere, eravate una macchina da guerra praticamente. Beh, oddio, diciamo che io specialmente, modestamente, perché io non ho mai studiato un copione in vita mia, nel senso, io avevo la coach che ci seguiva, no? Che ci dava le battute, e io mi studiavo le scene tre secondi prima di entrare in studio. Ah. E quindi ho allenato il mio cervello in questa memoria fantastica, che c'ho la memoria veloce, la chiamo così, insomma. Ah, buono. La memoria flash. Eri già, cioè, comunque eri ragazzo, quindi eri più maleabile mentalmente. Io registro con gli occhi le frasi, mi rimancono impresse proprio nel cervello, una tecnica fantastica. Grazie comunque a Mirlig, è fan della serie, che hanno comprato il popcorn. Ah, è fan della serie e scrive, da fan della serie, ma detto ciò, come mai sono finiti così male, ha detto adesso, ti sei collegato a te. Beh, ma che ne so io perché sono finiti male, mica sono io lo sceneggiatore, purtroppo. Guarda, fossi stato io lo sceneggiatore avrei scritto tutto quello che la gente vuole tuttora, cioè nel senso che Rudy torna con Alice, Marco torna con Eva, Giulio torna con Lucia e così via. Quello vuole la gente. Eh, ma la cosa bella è non dare quello che vuole la gente, cioè lasciare di, così ognuno si immagina il proprio finale. Eh, ma lasciare, sì, però quel vedo non vedo, che ne so, che togli tutti i personaggi e non so più i Cesaroni, cioè, no, hai capito? Vedi, sono disperati, chiedono, quindi, dicono, quindi non torneranno più, ci sperano ancora, vedi? Ma no, che non torneranno più, ma sicuramente se torneranno io sarò il primo a saperlo, il primo a dirlo a tutti quanti. Dillo, dillo che non lo vuoi dire adesso. Però, no, non penso proprio. Anche perché, chissà, cioè, immaginati adesso se dovessero riaprire la serie, che cosa saresti tu adesso? È tutto strano, no? Beh, sono passati un po' di anni, sì, sono passati... Eh, cioè, chissà la storia, come cambia. Sì, sono passati 7-8 anni, quindi, insomma, sì. Cambierebbe, infatti, dovrebbero modernizzare. Scrivono Cesaroni come Game of Thrones. Col finale. Cioè, questo finale, un po' che... Allora di che mi ha fatto una domanda interessante, che devo dire interessa anche a me, e dice, chi è il miglior collega con cui hai lavorato? Eh, ma non si può dire mai chi è il migliore, perché noi si offendono tutti i dati. Si offendono gli altri, è brutto, sai. Si offendono gli altri e poi parlano male di te. Siccome nell'ambito televisivo, nell'ambito cinematografico, si sa che le voci girano proprio in una velocità più veloce della luce, è meglio starse zitti, dammi retta, Luca. È meglio di che sono tutti bravi, sono tutti fantastici, sono tutti splendidi. Allora chiedo un'altra cosa... E allora, così se continuo a lavorare, capito? Allora un'altra cosa... Questa è la risposta che volevo. E con chi, la rimodello io la domanda, con chi del cast sei rimasto in contatto? Parliamo sempre per adesso di Cesare Lui. Allora, io ogni tanto mi sento con Claudino Amendola, ogni tanto mi sentivo con Fassari, i tempi in cui ci siamo conosciuti io e il signor Fabio qui in questione, poi ci siamo persi comunque di vista io e lui. Con Matteo non me ci sento, Federico nemmeno, con Nicole lasciamo perde, e chi me sento io? C'è stato uno con... Ah, con Mattioli me sento spesso, io Maurizio Mattioli. Con Maurizio Mattioli me sento spesso, sì. Bene, bene. Ma lui è fantastico, lui è sempre... Poi magari un giorno facciamo una bella live, anche perché abbiamo... Sì, lui si viene in live. Eh, sappiamo che tu ora ti vuoi aprire un canale, quindi... Sì, assolutamente, è ora che mi modernizzo pure io che in queste cose non ce ne vedo niente. Quindi facciamo una bella live tutti, un'insalata facciamo. Esatto, e regaliamo a chi lo desidera una puntata ai Cesaroni, che però non è una puntata ai Cesaroni, è uno spin-off su Rudy, è cresciuto. È uno spin-off sulla vita reale degli attori, del cast. Beh, vediamo se la prossima volta riesco a portarvi Angelica Cinquantini, che faceva la figlia di Antonello Fassari. Io credo che chiederò anche ad Antonello Fassari. Vediamo se Antonello Fassari riusciremo a farlo venire qua su... Sì, 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 ci viene, ci viene. Io sul set avevo anche paura io avvicinando a Mendole a fare una domanda. Ma può essere anche che... Dovevo aspettare il momento giusto, cioè mi sentivo molto in soggezione, capito? Perché mi trasmettevano proprio sta cosa... Ma può essere che il tuo sentirti in soggezione era dato anche dal fatto che comunque eri piccolo? Eh, infatti, c'era una differenza da notevole. Può essere, secondo te? No, non era perché ero piccolo, perché pure adesso se andassi a trovare Claudio su un set c'era vergogna nell'andare a salutarlo, e non è forse una cosa mia, non lo so. Ok. Ma sono proprio caratteri che... Non lo so. Poi non avrete trovato quelle persone che sono un po'... Forse magari troppo serie e ci avete paura di andare a dargli confidenza. Sì, sì, sì. Ma noi... Eh, la stessa cosa. Perché la confidenza ce ne dovrebbe essere stata dopo tutti questi anni, no? E invece c'è sempre quel distacco magari professionale, che uno c'ha timore ad andare a chiedere un consiglio. Sì, ma anche se non è professionale, secondo me è proprio di persone... Umano, umano. Le persone sono proprio... Umano, umano e professionale. Cioè, anche a conoscere gente della nostra età, che però si comporta in una maniera in cui tu hai paura a dire qualcosa perché magari se la prendi o ti risponde male bravo è vero che non c'entra l'Italia alla fine comunque hanno scritto un po' di roba sì tantissima roba la prima cosa che hanno detto in tanti è che Luca era frizzato Luca di scongelarsi insomma e non è un lag è proprio Luca che riesce a stare immobile è bellissimo ha un super potere Luca rimane là sì è perché la sua macchina è talmente definita anche se sta fermo si vede pulsare il cuore comunque ragazzi per tornare in tema qui con me ho la penna guardate un po' si vede? la penna di Cesaroni con la penna di Cesaroni io qua ecco quanti anni ha? quel lì questa me l'hanno data i primi anni il 2006 mazza infatti ha consumata tutta la scritta comunque chiedono se appunto ti è mai capitato di litigare con qualcuno del cast no no? non hai mai litigato con nessuno? no no sul set ma non c'era proprio motivo per litigare perché alla fine anche perché non c'era vita successa ti inseguivano gli insegnanti per farlo esatto con gli insegnanti si faceva quello che si doveva fare poi uno andava in camerino si mangiava un po' si studiava e poi tutti a casa e non ci siamo nemmeno mai frequentati al di fuori del set con nessuno proprio strano no io c'avevo 12 anni quindi sì no magari non ho frequentato ci potevo spostare c'avevo il motorino poi vabbè Matteo era già grande quindi c'aveva le sue amicizie non si poteva fare certo quell'altro era troppo piccolo quindi alla fine hai capito? sì 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 io abitavo a Cerveteri che tu dica a fare stavo lontanissimo quindi cavolo non è che stavo a Roma e quindi poi le nostre strade si sono divise ma sai che che io non sono mai andato nel bar dei Cesaroni quello a Garbatella no? sta a Garbatella dai mo dopo Pasqua te ci porta Rudy dai andiamo andiamo dopo Pasqua sei contento ci andiamo a Garbatella sono due chilometri a piedi arriviamo là dai a posto andiamo ti porto a vedere la casa che sta a Centocelle poi la bottiglieria che sta a Garbatella vai io non ho mai visto niente anche la scuola scuola e bottiglieria stanno alla Garbatella mentre la casa la casa che non tutti sanno che l'interno era costruito a Cinecittà mentre l'esterno è una casa vera che sta al Pigneto ah fantastico come quella di un medico in famiglia la stessa cosa dentro era finta quella di un medico in famiglia era uno studio gli interni sono tutti finti gli interni sono tutti finti perché gli interni sono molto più grandi di quello che è la struttura eh esatto ci devono stare le telecamere cioè se tu entri nella casa vera dei Cesaroni dentro a minuscola se entravi in quella costruita a Cinecittà enorme veramente la strada a 200 metri quadri certo perché comunque ci devono stare tutte le camere eccetera eh certo c'è un grande spazio per tutti i carrelli i movimenti le luci i pannelli e tutto quanto stanno scrivendo un bel po' allora c'è una domanda che è la puntata che ti ha segnato di più sia in senso lavorativo che affettivo se c'è una puntata che ti ha segnato se non c'è oddio ma chi se lo ricorda regà mo vai a capire le puntate perché uno sai sembra facile ricordarsi però mo quando ti fanno queste domande è andata a ricordare la puntata perché poi non è che io ho avuto una puntata dedicata tutta a me a parte una nella prima serie che era il super dotato ah beh di cosa esattamente eri super dotato no ma di testa di testa prendevo i bei voti capito no posso dire forse magari un aneddoto simpatico che è successo una volta che praticamente io pensavo non stessero girando quindi che fosse una prova e ci stavano Ludovico Fremont e Alessandra Mastronardi che stavano facendo stavano dicendo delle battute insieme fuori dalla casa sul marciapiede ok allora io mi sono avvicinato a loro pensando che non stessero girando e ho abbracciato Ludovico e gli ho detto Ludovico allora che si dice mentre stavano girando tutto a posto una figura di minchia una figuraccia bellissima perché non si possono dire parolacce qua no no si possono dire no no sono diventato rosso quel giorno come un peperone il regista ha detto ah Niccolò stavo girando ma che cacchia stai a fare che l'ho sentito così mai vergognato così tanto in vita mia madonna immagino vabbè poi tantissime altre cose ovviamente ma chi se ne ricorda vabbè questa più o meno l'abbiamo già detta si dicono che la foto dello studio smantellato che un tempo hai messo su facebook ha segnato particolarmente il fan della serie che brunta sensazione no no quel giorno sì era andato lì per caso volevo andare a salutare tutti quanti ovviamente non gli attori ma chi lavora dietro le quinte quindi la produzione e tutto il resto e sì ho visto che stavano distruggendo proprio tutto quello che avevano creato nel 2006 c'era proprio la gru che distruggeva tutto tutta l'infanzia mia e come è stato vedere quella scena lì beh sinceramente non mi ha fatto neanche troppo effetto pensavo di rimanerci molto più male però siccome ero già ormai mi ero preparato no cioè ormai lo sapevo che non si facevano più tante quindi a questo punto ho detto vabbè le cose finiscono vorrei chiedere un'altra cosa no buona cos'era cos'era questa è l'erba sapete quella affare che si mette ah sì sembrava un coso per tritare l'erba detto un piccolo dai buono no è buona non si possono dire le parolacce e poi va lì davanti ma mi dica Luca mi dica vai Luca vorrei chiedere siccome il quartiere della Garbatella è cambiato tanto rispetto a quando avete iniziato a girare Cesaro tu insomma l'hai visto cioè quanto è cambiato da quando sono iniziate le riprese diciamo ad oggi che è un quartiere molto carino si è riqualificato tantissimo dopo Cesaro grazie a noi tu penso no vabbè guarda credo che siano cambiati solo per i murales ci stanno tantissimi murales ho scritto viva forza Roma forza Roma forza Roma tutti i dipinti ma tu sei la Garbatella è carina io a me non mi interessa poco il carcere la verità la Garbatella è carina come zona è molto particolare sembra un villaggio un villaggio ristretto a me però non mi piace non ci vivrei mai non ci vivrei mai a Garbatella vabbè comunque io passerei dal tuo passato sì al tuo presente però aspetta aspetta alla fine Luca non mi sembra sia cambiata più di tanto nel senso noi poi giravamo sempre là in quel posto lì preciso quindi oltre che là non ho visto molto però non trovo molte differenze in questi anni cambiati ok cambiate mi sembra sempre uguale non lo so ti ho detto forse più scritte c'è stanno non mi sembra sia cambiato molto architettonicamente parlando eh ma da quando c'è Luca a Roma hai notato hai notato cambiamenti no perché più che altro senti io poi vabbè a Roma ci abito alla fine da cinque anni però loro in genere mi hanno sempre detto che la Garbatella era un quartiere anche meno ambito dove comprare casa dove trasferirsi mentre dai Cesaroni in poi l'hanno iniziato a vedere anche con altri occhi sei rimasto male forse perché appunto se so no nel senso no tu non mi è mai piaciuta la Garbatella non mi è mai piaciuta non mi è mai piaciuta Luca rimane male per queste cose dovevi dire sì mi è sempre piaciuta la Garbatella è quello perché Luca ci rimane il professorone guardalo poverino no non mi è mai piaciuta non lo so la trovo c'è tutti entri là dentro tutti i romanisti spegatati che pensano solo al calcio tutti i murales forza Roma forza di qua cioè se entrano laziate là dentro secondo me gli sparano capito la voglia non lo so eh posto però vabbè come zona non ci vivrei mai preferisco l'Eur che sta vicino ed è molto più spaziosa molto più larga non lo so vabbè comunque se ci vuoi andare a vivere Luca io non te lo nevo no no ma io ci vorrei andare a vivere se vuoi cercare a casa io non ti giuro no no non ti metti i bastoni tra le ruote giuro guarda comunque andiamo avanti con le domande vai ah vabbè se vuoi puoi farle anche tu le domande sì dai cioè invertiamo un po' il ruolo esatto facciamo che tu fai un po' di domande facci un po' di domande esatto vai se sei interessato tanto non ci conosci bene esatto non sai chi siamo che facciamo sì perché Niccolò conosce solo Fabio alla fine ma più o meno a voi devo fare le domande o a me stesso no a noi di te abbiamo già parlato o anche a chi ci sta guardando insomma a chi vuoi scherzo scherzo ovviamente no a chi ve conosce a voi eh appunto scusa dai chi sei ma non saprei che che domande fate ma che ne so mica non li conosci non sai se sono fidanzato conoscici ah proprio domande a voi della carriera allora sì certo ad esempio Luca quanti anni c'hai tu assai no vediamo quanti gliene dai a Luca sono il più vecchio della compagnia dai che io voglio andare a guess my age d'enrico Fabio allora vai indovina vai buttati buttati puoi avere qualche indizio non mi ricordo ah sì li deve dare Luca secondo me ce n'hai 33 eh ci sei quasi 33 li faccio ad agosto però ci sei devi andare davvero a guess my age a guess my age ci devo andare davvero allora ti mandiamo delle foto di persone tu ci devi dire che età hanno vabbè lo facciamo dai facciamo così adesso vai 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 va bene nel frattempo vedi se se intanto leggo qualche qualche domanda la prima intervista ma che film stanno vedendo alle spalle di Nicolò Nicolò che film ti stavi vedendo è Red 2 con Bruce Willis e John Malkovich e qualcun altro è figo è d'azione a me piacciono i film d'azione quindi che possiamo mettere quindi stasera mi hai dovuto bloccare però vabbè che devo fare sì ma ti ho detto ti regalo il DVD così no i DVD ormai non esistono più ci stanno di piattaforme ormai eh appunto c'ha un valore un po' più grosso lo compri dai lo compri su Cili autografato però eh certo mica da Bruce Willis era Bruce Willis bravo vai prendi quella foto questo grazie oh oh fantasma della pera grazie per i 3 3 dollari e 58 grazie 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 ragazzi però non ho visto non ho visto quello che ha scritto ma io non era uscito piccolino ragazzi io non so perché non ha letto non ha letto è vero ha fatto una donazione ma doveva leggere quello che diceva ragazzi ci possiamo dividere 3 euro e 58 ah mo ci prendiamo un 4 una bella macchina Niccolò pure per te una trentina di goliador ti manderemo una goliador Niccolò andremo al bar dei cesaroni e ti offriamo una goliador d'accordo no no quando io vado al bar dei cesaroni mi offre tutto il proprietario perché non può non offrirmi allora facciamo allora veniamo anche tutti i nostri ospiti anche tutti i nostri ospiti quando vado lì mi porto un sacco di persone è costretto a offrire a tutti capite quindi esatto approfittate sono tutti con te che se svaliggiamo tutto il bar capite a posto a posto portiamo solo 3 dollari e 58 ma vogliamo fare vogliamo fare una cosa vogliamo invitare tutti i nostri affezionati che ci stanno seguendo al bar non si può fare perché vedo c'è il periodo il periodo proprio un pelino sbagliato però non si può fare niente vabbè però più in là magari sì no lasciamoci con delle promesse sai le solite promesse che non si mantengono mai quelle lasciamoci con quelle promesse quelle proprio ah chiedono progetti futuri progetti futuri dai allora io voglio entrare in un altro mondo ma sempre dello spettacolo non dominate quale non è il canto non è il canto non è il ballo ballo dai dai musical no radio doppiaggio bravo stai facendo corsi ho fatto un corso quando ero piccolino ho doppiato cose però adesso voglio entrarci proprio bene in quel mondo e appena si potrà che potremmo andare appena finirà sto momento ovviamente perché adesso non mi fanno manca entrare nelle sale cercherò cercherò di approfondirla ho già un mio caro amico si chiama Davide Lepore che è uno dei più grandi doppiatori e direttori che mi sta dando una mano e quindi piano piano cerco di entrare là beh è bello mi affascina mi piace mi attira mi stimola oltre ovviamente segui sempre il campo della recitazione perché non è che lo abbandono anche perché comunque vanno di pari passo ma vanno di pari passo a fare il doppiatore è molto più difficile secondo me eh a voglia devi stare attento al video attento a quello che dice a quel tutto e soprattutto devi recitare attenendoti alla recitazione di quell'attore stando fermo davanti al microfono che è una cosa esatto comunque ci fanno anche le domande degli anni che anni erano 2010 cosa fate se vi entra un gabbiano in casa allora cosa fai se entra un gabbiano in casa cosa fai Nicolò vediamo tu cosa faresti a me piacciono tanti i gabbiani e quindi lo accudisci che li dai da mangiare che fai prima di tutto appena entra dalla finestra in cui entra chiudo quella finestra per non farlo più uscire ah beh poverino il gabbiano che si vuole il problema cosa faccio se entro in casa di Nicolò andiamo a carezzarlo faccio le foto e poi lo lascio libero ah credevo te lo mangiassi perché hai detto mi piacciono i gabbiani credevo no no assolutamente io gli animali li catturo li studio e poi li lascio liberi come i rospi del ucerto quando hai detto li catturo li studio io su studio mi è sceso la gocciolina cosa pure il moderatore mi sa che ha avuto un mancamento bannato bannato subito sì sì Nicolò Centioni ha abbandonato la chat no no veramente no altre domande non lo so no a proposito no perché abbiamo parlato questo strano movimento che faccio col braccio è che sto carezzando il cane che sta dormendo sul letto come si chiama guelfo aspetta mo ve lo inquadro pure guelfo grande nemico di Luca di Luca Luca è un grande ghibellino ha aperto gli occhi guelfo appena gli ho detto ghibellino guelfo è bello no ma non ve sente perché chiedono se è vivo sì è vivo sta dormendo ragazzi i cani anche i cani dormono cattivissimo no non l'ho non l'ho ucciso sta dormendo l'hai solo studiato è catturato ma non l'ho ucciso esatto mannaggia abbiamo parlato quindi prima di progetti futuri in realtà è quello di cui volevamo parlare anche no cioè che abbiamo parlato del passato come diceva Fabio prima e volevamo parlare anche un po' del presente non so di chi è anche Nicolo adesso di chi siamo noi anche no raccontare un po' di noi nessuno Nicolo almeno può parlare noi non abbiamo niente cazzo da dire no che cazzo dobbiamo dire no che brutto ma Luca parla poco io voglio sentire qualcosa ma Luca ancora meno da dire Luca Luca è un po' da dire ho parecchi anni più di loro ma eh vabbè mica tanti dai in 32 non è che so chissà chi a loro quanti anni gli dai a loro vediamo un po' oddio non lo so perché li vedo di piccoli quindi mi salvo no allora sui 27 dai a chi a tutti e due penso abbiamo la stessa età che ridere ma mi sembri veramente uno di quelli che un opinionista delle tv quelli non ha capito niente no 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 mi fa ridere perché l'hai preso hai preso Riccardo per più grande eh beh che significa che va bene no ci avete 20 allora Fabio 20 non lo so 26 ah beh sì è giusto giusto ma tu sei sei perfetto perché dai io quanti ce n'hai Fabio 26 26 sì a ottobre ne faccio è giustissimo ma come fai serio che non lo so viene così infatti devo andare a guess my age ci devo andare perché vinco capito quanti ne ho io invece secondo te aspetta che come ho la finestra aspetta ok e eh non lo so tipo 29 te ne darei 29 20 20 20 20 è invecchiato male direi mi taglio subito i capelli ah che devo no ce ne potrebbe avere 29 29 come 23 24 ce ne potrebbe avere eh vabbè ma così non vale ti tieni in un range dai 23 ai 29 non puoi andare a che smeggi così sa quelle fasce strane che dipende da quale inquadratura le vedi capito aspetta no è naso 24 come self tape mi giro 24 bravo 24 bravo 24 non devo fare 25 tra poco ma lo sapevo io che ne avessi 24 dai veramente non dobbiamo tutti e tre mamma mia roba sì vabbè però a me ne hai dato 29 all'inizio ma perché non si vede male ma perché non si vede male non ce la vede tutti quanti la camera come Luca qua che le tasse capisce subito dai anche se ne avrei dati un po' di più a Luca forse perché c'ha gli occhiali ah no dai mamma mia rimettiteli rimettiteli mamma mia dai Luca si dà gli agatelli secondo me oh grazie ci produce grazie Fabio out scrive grazie 2 dollari 39 ma perché in dollari non lo so forse ho messo io qualcosa di sbagliato i dollari i dollari due centenze grazie per il Fabio out che stavamo dicendo ah ah noi stavamo pensando noi siamo tornati ieri dalla Francia dalla Francia dalla Corsica perché in Corsica dice siamo in Francia in Francia si incazzano ti picchiano e non torni più in Italia no vabbè la Corsica è la Sardegna della Francia sì 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 ok questa cosa qua niente te lo volevamo dire basta solo questo spero che tu sia contento per noi ah no perché me l'avete già detto prima no sto scherzando no ci volevamo collegare con il fatto che in Italia funzionano diversamente le cose rispetto alla Francia e all'Inghilterra per quanto riguarda la cultura teatrale e anche cinematografica tutto quello che poi ne deriva ma appena esci dall'Italia in qualunque posto vai è tutto diverso certo certo ma noi stavamo pensando proprio alla differenza che fra l'Italia e la Francia in questo periodo che è critico comunque il periodo dappertutto però in Francia danno molta più importanza al teatro rispetto a quello che abbiamo conosciuto almeno noi personalmente in Italia beh ma anche in Inghilterra però eh infatti volevamo chiedere a te perché eravamo rimasti soprattutto in Inghilterra ragazzi voi non potete capire a Londra c'è stato uno spettacolo che è durato due anni forse ancora è lì di Michael Jackson uno spettacolo su Michael Jackson che si chiamava This Is It tipo una cosa del genere stava sempre là c'era lo stesso spettacolo ogni giorno lo stesso teatro per due anni e danno un'importanza pazzesca c'è stato tantissimi teatri a Londra io sono stato a Londra vabbè però penso comunque in Inghilterra in Italia si è pieno di teatri Londra soprattutto che è la città del teatro proprio viene data molta importanza addirittura più della televisione sì ci sono anche tantissimi attori famosissimi che sono stati a teatro là adesso non riescono i nomi però comunque camberbatch camberbatch no camberbatch hai detto giusto è Luca camberbatch ad esempio che ha fatto allora scusa andate in Francia allora no eh vabbè fosse facile voi che volete fare quando si potrà sì ma non è se si riuscisse a lavorare bene sia da una parte trasformate la vostra compagnia l'inglese lo sapete? eh? l'inglese lo sapete? poco meglio del francese meglio del francese sicuramente ha detto quello che dice camberbatch camberbatch allora andiamo andiamo tutti andiamo tutti a Londra di lì ci sono già stato quindi quindi ci guidi tu? beh sì facciamo domanda e portiamo uno spettacolo però in inglese dobbiamo portarlo no noi abbiamo fatto in realtà qualcosa con le maschere sì quindi senza parlare o facevamo facevamo anche una piccola parte in commedia dell'arte che è comunque italiana che è da precisare maschere non chirurgiche proprio quello era il gioco no? abbiamo fatto uno spettacolo sulle maschere in un periodo in cui le maschere di cui si sente parlare sono quelle solamente chirurgiche quindi per i ragazzi era uno spettacolo per ragazzi era importante capire appunto l'importanza della maschera che è il nome originario è quello della maschera teatrale non della maschera chirurgica ecco ma in generale non so se l'abbiamo detto forse mi sono distratto la gente insomma grazie per un numero di telefono che ha comprato i popcorn chiamate tutti chiamate tutti questo numero ringraziate questi sono i numeri che si trovano all'autogrill scusate ma che so ma che so sti popcorn non lo dite però i popcorn è quando qualcuno si inizia a seguire la nostra la nostra pagina qua su su twitch ah ho capito invece poi quando c'è DiCaprio che fa volare soldi è perché ci hanno donato un po' di soldini che ringraziamo ancora per i soldini la prima donazione ancora non ricordo che cosa aveva scritto ce l'ha scritto Fabio Fabio è il caso se il moderatore può scrivere quello che si si è reso conto figo figo e volevo chiedere quanto sei stato tu in Inghilterra per quanti anni io sono stato nove mesi sono stato che anni nove mesi sono stato nove mesi tutto il 2018 sono stato un parto sì esatto sì e come è stato in generale io facevo lo chef in un ristorante giapponese un italiano che fa lo chef nel ristorante giapponese cioè hai fatto sushi sì perché no perché non era proprio sushi era un tipo sai i noodles il wok il ramen con gli spaghetti queste cose così già pronte che mettevi sulla piastra un po' a desarsi era fatto dovevi solo seguire le istruzioni su come farli era proprio ma li potevi fare una bella carbonara eh che svoltavi la giornata altro che certo esatto magari ti chiedono il ramen tu esci con la carbonara ma l'è tanto la carbonara ah minchie questa costa pure di più però mi è stato divertito un sacco in Inghilterra le cose funzionano veramente bene i mezzi l'organizzazione generale di tutto ci sono tanti posti da vedere se ti dice bene che c'è il sole è bello tutto bello poi ti sposti in bicicletta che è una cosa magnifica perché non hai bisogno della macchina non c'è bisogno te pira la tua bicicletta e te fai pure attività fisica perché comunque ti tieni in allenamento che cambia è importante la circolazione del sangue eccetera eccetera e non rischi di morire come a Roma no 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 ti attraversi tutta la strada in bicicletta l'ho già fatto io è fighissimo io pettevo addirittura il navigatore sulla bicicletta appoggiavo il telefono con qualcosa tipo da macchina e andavo a casa dei ragazzi con la bicicletta capito? ma direi tu itinerario la casa di quella ma poi non te le potevi portare presto cioè dovevi stare a casa loro eri beh a casa si può fare qualcosa sì no certo in bici è un po' un problema in bici è un po' cioè ti porto in bici in un luogo dipende poi per molti non esco cioè no veramente l'ho già fatto cosa hai fatto? cosa hai fatto? non lo so no in realtà volevo fare una partita ma è uscita male non lo so volevo fare una partita abbastanza cioè così sembrava che io avessi fatto qualche no ma lasciamo stare ci chiedono episodi epici in Inghilterra ora noi vogliamo sapere di un giorno che tu hai preso a bicicletta sei andato da una ragazza no 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 ma lui non vogliamo sapere di cosa è successo con la ragazza ma no un episodio in generale ma io lo volevo sapere personalmente ho capito ma lo chiami poi vabbè poi mi dici vuoi sapere un po' l'inglese no dai qualcosa magari qualche evento veramente epico oh ma io sono giapponese ma io sono giapponese che ci produce voglio vedere uno sguardo sexy tra tutti e quattro ehi contemporaneamente vai va bene no non lo so fare io come non lo so fare ah aspetta ma tu sei bugia dai allora se donano 50 euro facciamo tutti e quattro no vai no vabbè allora lo facciamo ora per questo allora sguardo sexy non lo so fare facciamo uno alla volta sguardo sexy di riccardo vai ah è così no io mi rifiuto eh sì oddio ma che è una challenge questa ma che ne so ce l'hanno chiesto già hanno tornato è tutto il contrario cioè io guardo ma mica devi guardare a me a loro ma io manco me vedo manco riesco a capire tu fai finta fa finta che davanti a te c'è una ragazza inglese quella da bicicletta ah guardate tutti Riccardo chi? che faccia di no no Luca è già in fase guardalo guardalo è già in posa anche Luca Luca è da poco in posa è stato il primo a mettersi in posa vai poi c'è quello mio con gli occhi storti perché io se guardo lontano i miei occhi vanno così e ora c'è quello e dai non l'hai fatto ah scus come no no non l'hai fatto ma non l'hai fatto nulla Luca è da inizio live che ci fa lo sguardo sexy mamma mia che sguardo sexy è da quando è iniziata la causa la cam che sta con lo sguardo sexy noi non lo capivamo cioè noi pensavamo stava cercando di dimorchiarci e non lo sapevamo stava cercando infatti infatti gli hai detto fa lo sguardo sexy e hanno avventito e ora cosa devo fare non sapevo più che fa Luca è il più sexy non lo so Luca tocca a te tu sei quello con la qualità migliore togli gli occhiali è diventato serio d'improvviso guardate quanto è sexy Luca mamma cosa stai facendo con i anni cosa è cosa è ma è da guapo è da sì infatti sì mi metto un po' la giacca tirata Luca impegnati di più per favore fallo meglio dai Luca non ho fatto niente io non ho messo una pose scusa hai già fatto tu Luca vai Nicolò tocca a Nicolò vai sguardo sexy di Nicolò ragazzi è stato bello io muovo a dormire dai mezzo sguardo no dai no mi rifiuto no non riesco a farmi oh ci hanno pagato vabbè allora se Nicolò per una donazione di 20 euro lo fai ma che devo fare uno sguardo sexy se dovesse arrivare una donazione di 20 euro allora fai lo sguardo sexy dai vai non ho convinto però l'hai promesso però eccolo lo sguardo sexy è questo o è quello assonnato questo è un po' tutti e due no è mio è tutto è così no 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 era quello era quello scusate scusate allora vabbè i 20 euro se li vogliono da Elidon lo hanno stesso e poi andiamo tutto al bar che in realtà è gratis e quindi i soldi ci rimangono quindi che cazzo ho solo 19 euro sulla carta mi dispiace allora metti 19 vabbè bellissimo che mettono leggete le altre leggete le altre domande sì allora Nicolò se potessi cambiare qualche scelta del tuo percorso attoriale lo faresti qualche scelta devo cambiare qualche scelta del mio percorso attoriale ma io non ho avuto scelte nel senso se ho capitato a fare sto ruolo a Necesarone non è che l'avevo scelto io ho tentato di fare il proino nel miglior modo possibile cioè volevo essere scelto ovviamente sì ma non però come fai a cambiare cose questo lavoro si basa anche sulla fortuna ciò che ti viene dato tu lo prendi o lo fai non è che stai la sceglia no questo non lo faccio quello lo faccio quello no a meno che non sei che ne so certo abbastanza davvero e poi permetterti di scegliere quindi non cambiare nulla no certo che no infatti è una cosa anche da da considerare questo soprattutto per chi inizia nel senso che alcuni attori accettate tutto ragazzi io accetterei anche un il ruolo non da protagonista ma magari da co-protagonista o dell'amico dell'amico del protagonista farei anche un cameo per dire cioè una partecipazione capito non a caso ci chiedono farei tutto è una cosa che volevo chiedere ad esempio visto che magari ci seguono anche dei ragazzi che si sono appena diplomati o non so che vogliono intraprendere la carriera d'attore secondo te allora io sono del parere che fare comparse non vada bene ma figurazioni speciali almeno va bene secondo te per come carriera d'attore perché non va bene perché non va bene secondo te fare comparse per chi inizia da zero inizia con quelle anche dici di iniziare anche dai comparsi secondo te ah sì alla fine che cambia tanto eh non erano viste male nel senso nel senso erano non erano viste come come altro le comparse nel set perché solitamente quello che mi è stato detto quello che comunque anche da come gira la voce la casting director proprio che le comparse non sono figure attoriali no almeno non sempre perché ci sono alcuni casting director che in realtà prendono attori anche per fare le comparse anche perché a me sinceramente se mi vede un film e c'è la comparsa che fa finta di parlare e si vede che sta facendo proprio finta di parlare male dà fastidio a me spettatore quindi o che sta facendo finta di fare cose si vede che fa finta di fare cose sì quindi ci sta che che sia giulia roberts inizia comunque è veramente è veramente difficile fare male una cosa che è così semplice secondo me appunto vogliono attori cioè è più difficile sbagliare che farla secondo me ma tante volte appunto gli attori cioè quelli che non sono quelli che fanno le comparse che non sono attori cercano di strafare cioè di fare più della verità perché stanno recitando e quindi si vede ma di fatto il miglior modo sai che io ho capito che il miglior modo per recitare è proprio questo non recitare sì perché tu più pensi che stai a recitare più la fai finta ma questo è chiaro sì sì questo è chiaro è una roba invece devi dirla come la diresti tu nella realtà cercando di far capire tutto quello che dici nel senso senza magnate parole ed avere una lezione pulita quella è da recitare bene ma è chiaro ma anche perché nel momento in cui tu pensi a come dire la battuta è normale che la stoni tra virgolette no? sì esatto che suona male perché si sente che è finta esatto la devi dire come la diresti te sì poi ovviamente dipende quanto questo personaggio è distante da te cioè se è un personaggio magari prova emozioni diverse forse è quello che prova emozioni diverse da quelle che provi tu solitamente però secondo me no sì hai ragione cioè la direi in quella maniera chiedono un applauso per Nino Manfredi che mi sembra doveroso un applauso a Nino Manfredi che ne pensi tu Nicolò a Nino Manfredi un applauso perché è una ricorrenza sono i cento anni di Nino Manfredi sì Nino Manfredi Nino Manfredi che film ha fatto ricordami un po' eh tantissimi da troppi eh Operazione San Gennaro eh Caffè Express eh brutti sporchi e cattivi insomma hanno fatti parecchi e anche lui ha fatto una serie tv che qualche anno fa era stata insomma era parecchio famosa in Italia aveva fatto Lindel Bricatiere non so se te la ricordi no no eh ha fatto fatto un bel po' dicono grande Luca in realtà noi Luca l'abbiamo chiamato solo per dire film che film se c'è qualcuno che scrive di un attore è Luca che parla perché noi siamo gli ignoranti siamo quelli che lui oggi Nicolò oggi si preoccupava che è stato un grande geppetto in pinoche Nicolò oggi si preoccupava perché diceva guarda voi sapete più di me ma eh l'ho detto infatti io non so manco chiesto Nino Manfredi no devi recuperare è vero come ha fatto prima l'applauso si applauso lo so ma l'ho detto io in questo mondo ci sono capitato ci sono capitato non l'ho scelto ci sono nato quindi non ho mai avuto l'interesse nello studiare cioè in un senso mi piace farlo perché mi piace perché mi stimola mi dà energia mi piace però non mi sono mai messo là studiare tutti gli attori soprattutto quelli vecchi poi chiaro dicono Luca c'è rimasto male di nuovo dai mi dispiace no no non mi sono rimasto male no ma Luca tanto io conosco conosco quelli che si conosce conosco Bruce Willis conosco che ne so Jim Carrey questi qua capito gli attori diciamo più americani che italiani l'incard conosco i doppiatori l'incarduzzo ha comprato i popcorn io mi sono informato un po' di più tu hai mai visto Birdman? Niccolò presidente presidente hai mai visto Birdman? che è Birdman? è americano americano il film no no non l'ho visto secondo me ti piacerebbe un botto perché parla di di questo attore che ormai grande ha più di 60 anni che lui nelle realtà lui nella realtà fece Batman se non mi sbaglio no Luca? si si è Michael Keaton ecco lui fece Batman tanti tanti chi ha mai visto Batman? tanti tanti anni fa vabbè anche se non sai la storia il cavaliere oscuro no no è prima 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 lui praticamente era rimasto nella riconosciuto da tutti come Batman quindi come l'uomo uccello e quindi parla di questa sua storia no l'uomo non l'uomo uccello l'uomo vivistrello si no però Birdman faceva l'uomo uccello ah ok capito e la cosa bella che lui che ma scusa ma tu dille bene le cose dai di che ho sbagliato pronuncia no Birdman io ho capito Birdman no che Birdman Bird Birdman Birdman non è che so io ignorante so io che non so parlare lo so me la porto dietro questa cosa stavo dicendo Birdman l'hai mai visto? no no eh allora ma come lo fine no ma sembrava l'avesse visto ha fatto ah ma allora ma è Birdman non Birdman Birdman hai visto? no ma che ma voi siete remoti dai andate a pescare sti film vecchi no no Birdman che è rimasto bloccato nella visione collettiva in questo personaggio e ma si chiama Niccolò Centioni attore no? quasi no comunque è bello perché appunto lui arriva alla fine della sua carriera lui è grande ma tutti lo riconoscono ancora come l'uomo uccello capito? e nessuno riesce a riconoscerlo come l'attore che è anche nel teatro ma è bellissimo sto film cioè mi proprio parla di me io me lo sono visto tre ma lo vado a vedere subito molto bello poi è tutto in piano sequenza sì no è un piano sequenza l'immagine è un piano sequenza anche se ci sono tipo dicio ventiquattro scarti però non lo spettatore non li nota tranne i come si chiama i timelapse però sono cioè è tutto un piano sequenza segue proprio il personaggio durante tutta la sua storia lo segue nei camerini sul palco no è fighissimo ricordati Birdman l'uomo uccello va bene ma vado a cercare come no è figho io l'ho visto veramente tre volte come tre volte ho visto Breaking Bad non so se l'hai visto ne ho sentito molto parlare è una serie che non mi sono mai visto però mi sono visto Prison Break e io non l'ho visto Prison Break mi è piaciuto un sacco comunque chiedono Laura Adriani la senti ancora? no Laura non la sento più ok no non la sento più poi chiedono qual è la tua attrice preferita e attore preferito italiana eh attrice preferita italiana ma non ce l'ho proprio mi sa l'attrice preferita italiana l'italiano io non ho attori preferiti italiani cioè io ce l'ho americani capito gli italiani mi piacciono un po' tutti ma non ho uno preferito boh ne vedo di tutte e di più l'altro giorno mi guardavo Verdone ad esempio Verdone è fantastico eh sì l'altra volta ad esempio però abbiamo parlato di Matilda De Angelis non so se almeno non so l'ho sentita Matilda De Angelis però non ho capito non adesso non mi ricordo com'è fatta chi è l'hai sentita nel senso che la senti ogni tanto no 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 cioè ho sentito un nome suo no è una brava attrice è brava giovane giovane ah la tua età sta su Instagram l'ho vista l'ho pescata sei più piccola Matilda De Angelis voglio un malmenate grazie malamente non malmenate grazie non malmenate grazie per i popcorn ma è figo quanto lui oh grazie grazie dicono Michael ma è figo quanto lui no no dicono che che Cesarone vabbè sì che Keaton ha fatto anche i Cesaroni mentivano non ho capito che hai detto dicevano che l'attore di Birdman ha fatto anche Cesaroni ma mentivano spudolatamente e vabbè ah bella questa domanda tu sei entrato a far parte dei Cesaroni a 13 anni no sì ma se non avessi fatto quel provino cioè tu cosa volevi fare cosa dove chi sei chi saresti stato allora io ho sempre non ho mai smesso di lavorare dal 99 al 2014 diciamo quindi eh se non avessi fatto quel provino probabilmente avrei fatto altri provini e sarei stato preso spero per qualcos'altro tipo mentre facevo Cesaroni io ero stato preso per fare i liceali per dirti ah eh vedi poi non l'ho fatti perché stavo appunto i Cesaroni non ci stavamo tempo certo quindi ecco avrei fatto i liceali sarei diventato comunque quello dei liceali quello un altro qualcosa Giuseppe eri Giuseppe dei liceali tra l'altro si chiamava si chiamava no si chiamava Mario si chiamava Mario oh buonasera ragazzi ci produce con 2,39 buonasera ragazzi è il titolo di te del nuovo film merda non sono interessato quanto hai dato? che? 2,39 euro ah grazie grazie stiamo diventando ricchi ma fanno ma fanno le donazioni qua che le lemosine non ho capito noi conta che stiamo con le mani così e loro ogni tanto ci lanciano ogni tanto qualche monetina vai mettiamo mettiamose così allora dai la prossima volta Nicolò andiamo di fronte al bar quello là dei Cesaro esatto ci acchieriamo e chi passa passa ci dai soldi solo che dai palazzi non penso che cadano le monete ma spero non cadano le monete se no ci facciamo male primi in classifica su Twitch si si improvvisamente la diretta più quotata e vista di tutti i tempi bene ragazzi io lo voglio bene però ho passato un'ora e venti c'ho le ginocchia ma si stanno a sfondare ma che sei in ginocchio sai ma come ginocchio stacco le gambe ma cosa incrociate me sento più come fate a resistere un'ora e venti 10 minuti se non c'ho più le gambe mi devo portare pronto soccorso io vi saluto con tanto affetto regà aspetta chiedono ci rifasciamo un'altra ci rifasciamo un'altra diretta più in là con Mattioli e con Angelica Cinquantini se vuole venire l'anvito e vai vai quindi facciamo una una riunione ai cesaroni dai facciamo quindi ci lasciamo con la promessa di fare un giorno una diretta con con ma sì il gente possibile del cast vai tutti i cesaroni all'interno dai 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 mi piacerebbe portaci Fassari ma Fassari ci sarà Fassari ve lo porteremo ve lo porteremo tranquilli dice anche Niccolò che secondo lui accetta volentieri e speriamo nel senso guarda Fabio convincino pure te Antonello perché ma io avevo intenzione di mandargli un messaggio questa settimana quindi mi mando un messaggio questa settimana dicono vogliamo amendola sì ma amendola abbiamo anche già parlato prima e poi non abbiamo contatti diretti non abbiamo contatti amendola manca verissimo capito ciao vogliamo magari su triset mask cameo show magari io verissimo no ma è perché è verissimo questo è meglio va bene grazie Niccolò grazie mille grazie a voi un grande ringrazio anche da parte dei tuoi fan dei nostri seguaci ciao a tutti i seguaci per chi ci volesse seguire seguiteci perché la prossima volta avremo ancora altri ospiti e un'altra volta anche Niccolò in teoria la prossima senza in teoria la prossima diretta non lo so quando è giovedì giovedì ci vediamo giovedì Niccolò se ti vuoi collegare a vederci e poi io entro proprio giovedì prossimo organizziamo questa diretta con gli altri pure ah già da giovedì giovedì ce la facciamo è che stiamo a aspettare approfittiamo adesso che la gente facciamo una settimana a Cesaroni si la gente non può uscire approfittiamo adesso se no dopo chi ci si fila scusa dai 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 allora ci sentiamo su whatsapp a presto ciao 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 grazie ciao a tutti ma chi era l'ognuno chi era io lo so non lo so parlava strano non lo so allora no io volevo ringraziare tutti per per averci seguito insomma per le donazioni eh non so non so fare un niente scusate ma che stai facendo cosa succede sto rimpicciolendo Luca che fallo più piccolo così non c'è più Luca così ragazzi fate qualcosa per far tornare i Cesaroni vi prego noi non abbiamo potere questo potere anche perché se parliamo con gli attori non stiamo parlando con la produzione o la distribuzione abbiamo il potere di chiamare attori qua a presenziare in queste live ci saranno sempre più attori pian piano insomma li chiameremo e vediamo questa settimana inaspettata proveremo questa live con il cast dei Cesaroni vediamo che cosa ne uscirà fuori intanto ci chiedono un breve racconto della Corsica ora che ora che siamo tutti e tre sì dai che altrimenti era mantenevamo ma mantenevamo ma come dovevano amputare le gambe poverino sì infatti poi era con con Guelfo quindi noi non siamo mai andati in Corsica è stato tutto finto è tutta una bugia sì in realtà siamo sempre stati qua non avevamo voglia di fare la live guarda guarda Big Mimmo fate venire la Mastro Nardi cioè tu scrivi solo per questo cioè Big Mimmo Big Mimmo eh Big Mimmo mannaghi a te eh l'Incorsica l'avete rimorchiato eh cos'è dico io non potevo eh allora richia richia giusta la roba delle donazioni eh lo so dovete scusarmi per quanto riguarda le donazioni farò anche praticamente quando si dona ci dovrebbe essere anche una voce che dice Fabio out vai via ok ci dovrebbe essere una voce che detta come dire che dice quello che ha fatto ma ragazzi mi dispiace non sono ancora bravissimo in queste cose mi farò aiutare in tutti i sensi no perché pillo out dai ah sì abbiamo hanno perso contro Benevento beh giustamente eh vediamo poi comunque se avete proposte ad esempio di attori non impossibili per il momento fatene perché noi ci proveremo a farli arrivare qua abbiamo un po' di contatti un po' ce li abbiamo quindi vi promettiamo già sicuramente persone che noi almeno conosciamo di persona poi le altre vedremo piano piano però iniziamo da quelli che conosciamo di persona Al Pacino sta a Roma Al Pacino Al Pacino verrà verrà sì lo conosce bene mio padre hanno fatto delle gite in barca insieme quindi sì che poi c'era un chi un giorno era Al Pacino era Al Pacino mica l'ho riconosciuto eh sì sembrava Al Tabaccaio a me sembrava quello di Scarface ah è vero si somiglia un po' si somiglia un po' è vero Fabio De Luigi ah sai che Fabio De Luigi sarebbe una bella cosa io con Fabio De io io sono stato alla stessa stanza sono stato sono stato alla stessa stanza di Fabio De Luigi c'era Diana Del Bufalo c'era come si chiama Diego Aldo Giovanni e Giacomo sarebbe fantastico uno tra Aldo Giovanni e Giacomo sarebbe bello sì in realtà forse possiamo c'è un collegamento con con ce la possiamo fare forse con Giovanni riusciamo a ci provieremo proviamo a tirarci vai scriveteci i nomi ci scriveteci mago forest mago forest scusate ero a casa non avevo niente da fare io non io ho fatto lo stage mi pare che c'era il numero di Lillo ma mi sa che non ce l'ho più magari di chi? Lillo di Lillo e Greg non ce l'ho più ragazzi non ce l'ho più una roba del genere comunque più ci donate più possiamo pagare gli attori per l'intervista funziona così funziona donate no ma soprattutto la telecamera ci manca la telecamera buona vedete che si vede male poverina c'è la Luca non torna più manca la vitamina F veramente la mia è a Roma sì oggi manca la vitamina F perché non potevano nessuna delle F ah è vero c'è chi ha delle riprese c'è chi manca un po' di vitamina F sì Max Tortora potrebbe accettare secondo me ma non lo conosciamo cioè di persona intendo però c'è comunque sempre un collegamento com'era com'era la cosa delle sei persone il collegamento che date a un'altra persona X ci sono massimo sei persone quindi anche date un dittatore qualsiasi ragazzi un giorno faremo una sfida dobbiamo arrivare a un nome grosso a un nome grosso con un massimo di sei persone con un contatto di massimo di sei persone vai qua su Twitch al pacino no al pacino è possibile è così è pure in un'altra lingua è già andato in barca con mio padre non è che può fare eh infatti comunque li chiedono un'altra volta perché mancano Piero e Carlo Piero e Carlo mancano perché abbiamo occupato già tutto lo spazio sotto i fissi di queste dirette siamo sicuro noi tre ma buon Massimo Boldi ma non è cosa che dolore al culatelo che dolore al culatelo ma è anche Barbara D'Urso non è mai stata intervistata in effetti in effetti ha il suo perché questa frase ha il suo perché dovremmo dovremmo pensarci sì sì ha il suo perché no De Siga state puntando troppo in alto Carlo Verdone in sei passaggi Carlo Verdone in sei passaggi Carlo Verdone ragazzi a me piacerebbe veramente tanto intervistare proviamo Carlo Verdone Che Cozzalone Che Cozzalone dobbiamo decidere chi forse riesco Luca Bizzarri se ci pensate bene ci potremmo arrivare sì sì ma anche Carlo Verdone anche Che Cozzalone possiamo arrivare Carlo Verdone non saprei secondo me sì io non lo so da dove sì da dove no non è vero da dove sì sì ce la possiamo fare e dobbiamo documentare anche il tutto le chiamate eccetera Matilda De Angelis per me se invitiamo Matilda De Angelis possiamo chiudere il canale cioè dopo Matilda come no non lo chiudi no non lo chiudi cioè vuoi venire al canale sì chiudi il canale non lo facciamo dobbiamo passare ai politici sei passaggi in sei passaggi ora chiudo Luca lo tolgo ha detto a passare ai politici sei passaggi in sei passaggi comunque parlando seriamente ottima live grazie ma ottima perché siamo ottimi noi no bugia siete ottimi voi i nostri spettatori senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile Marco Rizzo questo ragazzi ve lo posso fare facilmente se volete Marco Rizzo certo ce la puoi fare? eh sì conosco molto bene davvero? e fai Marco Rizzo eh sì allora a me sei passato sei facile e non va bene Maccio Maccio facciamo una live con Maccio e Lundini ma no io muoio è impossibile Lundini infatti ci scrivono Lundini eh se facciamo Maccio e Lundini io Lundini è quotato Lundini già due sì sì però Fabio se facciamo Maccio e Lundini devi fare ti lasciate solo ti devi rasare a zero devi fare qualcosa madonna sì no no se ci riusciamo eh sì devi fare qualcosa sì mi lasciate da solo eh dieci minuti no che che vuol dire dieci minuti con loro dai vi prego eh che fai parlo non voglio saperlo Cattelan Cattelan sì Cattelan anche lui mi ha intervistato no è stato intervistato sì è stato intervistato no sai che dobbiamo far venire è Zero Calcare Zero Calcare è stupendo Zero Calcare eh ma come ci arriviamo a Zero Calcare? eh gli scriviamo forse sì forse riusciamo scriviamo su Facebook anche D.P.A.L.E.D. Gema scrive Platinet Platinet Platinet? non lo ricordo no sto scherzando non ho scritto Platinet però così freddi non saprei come arrivarci Pippo Baudo non saprei proprio come arrivarci Pippo Baudo ma secondo me non sa neanche cos'è a Zero Calcare ci arrivate con questa 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 va bene che poi Tris et Mas diciamolo una volta per tutte anche se poi Tris et Mas il nome è perché Tris è Tris cioè è partita l'idea appunto del fumetto è partita da me Luca e Pierantonio che abbiamo visto l'altra volta et è una congiunzione latina che poi francese si scrive et mi pare eh bla 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 Mas che in spagnolo significa più che possono essere gli spettatori o noi attori siamo più di tre magari oppure in latino Mas significa virile eh io Luca e Pierantonio siamo proprio no infatti quando mi vedo dico questi quanto sono virili esatto quindi Tris et Mas ma soprattutto è stato chiamato Tris et Mas perché perché è Tris et Mas 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 Stanno dormendo vabbè no no è una stronzata che inventiamo così quando comunque Fabio io pensavo scusami se tu non avevi mai visto i Cesaroni e hai lavorato con gli attori dei Cesaroni che è successo Luca smetti la suspense però no era saltato tutto era saltato l'audio dicevo adesso devi lavorare con gli attori del Signore degli Anelli eh sì stiamo là sì sì stiamo là Luca ma sì ma Luca ogni tanto ha dei mancamenti noi ci preoccupiamo dovremmo chiamarlo presidente no questo momento di salto di audio comunque se ci seguite cioè fate fate seguire anche i vostri amici se vi interessa il format perché e se avete anche consigli insomma noi nel senso sono le prime live ma se avete consigli anche su qualche argomento da portare insomma fateci fateci sapere che a noi fa sempre piacere e insomma vediamo che cosa fare se cosa portare avanti uno dei migliori contro chi? Luca Luca? sì no lui è contro ha dei mancamenti presidente anzi in giapponese presidente oh presidente ah che poi abbiamo parlato in giapponese con i ragazzi è stato bellissimo ah sì e loro già non ci capivano perché parlavamo in italiano poi abbiamo cominciato a parlare in giapponese eh lo so che vorrebbe lavorare con me Vigo Mortens però ha già lavorato tra l'altro vive in Italia non lo so cosa si è spessato cosa si è rotto ho spessato qualcosa vabbè la prossima live cadremo a terra comunque vive in Italia eh Vigo Mortens non so se lo sapevate ah ma c'erano un po' di nomi che erano tagliati a metà nella chat scusate ma tanto li leggevo da qua Luca è stragliato date di colore è sbiadito è sbagliato è sbiadito tanto li leggo bene ho detto io va bene va bene allora speriamo speriamo di avervi attori importanti con chi hai lavorato allora ho lavorato con chi è? attori molto conosciuti molto conosciuti qui sono vabbè Nicolò con Fassari con Angelo non mi ricordo il cognome che comunque nel Maresciallo Rocca faceva il figlio del Maresciallo Rocca con Riccardo Mori vero poi vabbè molto conosciuti non so nel teatro ad esempio sono conosciuti Andrea Caemerle Caemerle un recitato con Andrea Caemerle poi chi più conosciuto conosciuto c'è gente che in realtà ha fatto molto ma magari se dico il nome non è conosciuta sì quindi aspetta basta non è che hai fatto chissà che che ci devi pensare no c'è Beto aspetta fammi pensare ce n'era un altro ma mi sono dimenticato ah il fratello del freddo il fratello del freddo ah il fratello del freddo è vero però non ho recitato io lì ma quando era un cortometraggio ah potremmo invitare lui è vero è vero non mi ricordo niente ma quando l'hai fatto quando tu eri piccolo giovane ma io che stavo facendo quello che fai sempre non mi ascolti quando torno a casa ma non sei non sei perché cazzo ti incazzi perché non ascolto quello che dici eh eh vabbè non mi ricordo più che succede che ne so io ho un nuovo iscritto al canale youtube se vi interessa al canale youtube è molto perché a proposito questi video li dobbiamo caricare poi su youtube su youtube posso andare su youtube un attimo non so che cosa vuoi fare su youtube mi avevano no 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 è luca che cosa vuoi vedere su youtube mi avevano bannato un video infatti l'hanno visto in pochi da youtube perché credevano che andasse contro la cosa del una diretta con sergio pisapia fiori tu zio eh in effetti magari magari l'avvocato di gomorra ma non ci ho lavorato con lui però ci abbiamo parlato si ci abbiamo parlato abbiamo chiacchierato anche con marco marco d'amore che mi fece complimenti per il video si è vero bellissimo perché abbiamo visto uno spettacolo di american buffalo era american buffalo american buffalo abbiamo visto e niente dopo spettacolo ci siamo fermati a chiacchierare con marco d'amore che aveva visto il video che aveva editato fabio su gomorra che era oh sfondi il divano che era gomorra misto con griffin era griffin misto con gomorra e aveva fatto i complimenti a fabio per il video perché ha detto ah minchia ma sei tu che hai fatto quel video bravissimo portate un calciatore in live che cosa ah ce l'abbiamo chi è un portiere uh si si possiamo portare anche un calciatore anche se noi possiamo portare un calciatore è vero avete ragione possiamo portare un portiere in serie A poi no è vero in serie A si no ma è in serie B lui è in serie B lui si non me lo ricordo va bene però possiamo chiamarlo volendo ma nel senso è un canale di cinema serie tv possiamo chiedergli che serie tv guarda eh si parliamo di serie B va bene in effetti scusa un calciatore perché devi parlare per forza che palle anche lui si rompe le balle altrimenti le palle anche perché nel senso questo Staterga capisce già tutto Staterga come cavolo ti conosci a Sanremo è andato a Ibrahimov ci non mi parla cioè sta dicendo sì in effetti noi siamo abbiamo sbagliato lavoro come Sanremo siamo noi la stessa cosa esatto lo stesso share mi sembra giusto mi sembra giusto va bene vabbè dicevo che mi avevano ma intanto non c'entra niente col cinema ma cosa che oggi mi hanno riattivato un video finalmente ma perché vuoi far vedere cioè se te l'hanno disattivato è perché era brutto no me l'hanno disattivato perché credevano che andava che andava contro il politically correct del di youtube invece no cosa aveva perché parlava era quello scherzi a parte del covid ah sì perché youtube credeva che io ero contro la l'uso delle mascherine dei vaccini di tutte queste cose qua perché ho quello famoso me l'avevano me l'avevano tolto non so se qualcuno se il moderatore può linkare il video di fabio qua magari così lo vedono anche in chat nel caso lo vedono anche perché farlo vedere lo vuoi far vedere tutto adesso dura un minuto non lo voglio guarda come ci rimane male no 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 non lo voglio far vedere va bene facciamolo vedere vai cosa devo scrivere fabio bion ah facciamo vedere questo c'è sanremo sì vabbè un'ora di aiello sanremo 2021 fabio si è divertito a fare un'ora di aiello che fa che grida dovevi portarci dovevi portarci sì quindi oltre a copiarmi le idee sì sì mi tolgono anche i video guarda sono destinato ma eccolo questo il terzo è questo sì allora aspetta devo bloccare il video poi metto qua mettiamo subito eccolo qua pronti guarda più grande tanto lo faccio più grande ma sì faccio noi più piccoli eh ma sì ma che c'è frega ma che c'è importa oh siamo spariti oh siamo comparsi là va bene stiamo bene Luca che non si vede meglio sì anche perché ci copre sotto i titoli in caso dato che non so parlare vai così rimpicciolisco noi vai ok scusate se sono lento a fare queste cose è la prima volta scusate ok siamo pronti sono emozionato via nel dicembre del 2019 abbiamo diffuso la notizia di un nuovo virus proveniente dalla Cina a gennaio abbiamo detto che sarebbe arrivato in Italia e che era pericolosissimo con l'aiuto del nostro complice Giuseppe Conte abbiamo costretto le persone a stare in casa alcuni sono direttamente in trancea negli ospedali nelle fabbriche nelle farmacie intanto quando qualcuno moriva per qualsiasi causa abbiamo dato la colpa al nostro virus qualche giorno dopo abbiamo dichiarato lo stato di pandemia abbiamo obbligato l'acquisto di mascherine e disinfettanti per arricchire le nostre case farmaceutiche avendo finalmente la città deserte abbiamo potuto installare alcune delle nostre antenne 5G allora il nostro complice Bill Gates dichiara di aver trovato il vaccino per il nostro falso virus e intanto cominciamo a iniettare del mercurio nelle loro vene alcuni di loro hanno cominciato a sospettare che sia tutto uno scherzo della nostra produzione ma per fortuna nessuno li crederà chissà come la prenderanno le nostre vittime quando saranno ormai robot lo scopriremo nella prossima puntata di scherzi a parte era questo qui e me l'avevano bloccato perché credevano e io gli ho scritto ho detto scusate è un coso ironico se non lo capite siete delle teste me l'hanno rimesso ah è pure scritto hai dovuto scrivere certo ho fatto ricorso cioè perché mi togli è un video ironico mi togli dei video ironici poi c'è tanto di quello schifo e niente e quindi questa è una mia piccola vittoria ma mi è venuto in mente solo perché questo qua sei iscritto al canale non so perché sei iscritto al canale non pubblico da due anni forse perché era quello che ti ha sbloccato il canale però è bravo è bravo mi piace mi piace guarda la faccia di Luca Luca ma sembra una scimmia una scimmia Luca Luca presidente ma che cosa cioè siete in ritardo clamoroso rispetto a me io vi vedo muovere le bocche e poi sento l'altro no è una capacità che abbiamo imparato facciamo finta di essere doppiati capito mamma Luca va bene dai allora insomma ringraziamo anche perché sono due ore che siamo in live altrimenti i poveri spettatori esatto anche noi grazie per averci fatto compagnia in queste due ore insomma dopo il coprifuoco e speriamo di aver fatto una buona compagnia noi a voi anche a quelli insomma che sono già andati a letto anche un po' tutti e soprattutto grazie anche a chi ha iniziato a seguirci a chi già ci seguiva grazie a chi ci ha donato oggi le prime donazioni molto interessante molto carino grazie grazie ragazzi allora ci vediamo giovedì vediamo con chi riusciamo a chiacchierare giovedì se col cast di Cesaroni vediamo se riusciamo a riunirlo il possibile poi vediamo non tutti o altrimenti altri ospiti va bene va bene grazie ragazzi grazie mille grazie boys ci salutano ci vediamo presto un bacione ciao ciao